Welcome back to Karate for Beginners this is Simona and today we are going to study these four movements in different direction associated with an attack or with a defense so who is ready as usual tell your neighbors that they are going to feel your energy find a place in your house in your garden in your garden in the park wherever you want as long as you practice so let's get started Allora cominciamo da dove abbiamo lasciato l'allenamento la volta scorsa quindi facciamo GEDAN BARAI andiamo avanti questa volta facciamo un attacco di pugno possiamo fare OITSUKI JODA ok facciamo MATE come abbiamo fatto la volta scorsa e ripetiamo e ancora una volta pugno JODA e di nuovo mi sposto o avanti o indietro non fa niente mi sposto indietro con la gamba destra in questa direzione e attacco di nuovo JODA e di nuovo faccio MATE e attacco JODA e poi l'ultimo spostamento muovo due gambe quattro pugni in quattro direzioni si probabilmente ne possiamo fare cinque facciamo cinque così facciamo anche l'ultimo spostamento we are now going to study these four movements associated with an attack so we start with KIDAN BARAI KAMAI TE and we will do JODA AND SUKI then I will do MATE and OITSUKI then I will move one leg this time I will go forward and then OITSUKI MATE and then OITSUKI and when we do another one I will move two legs and OITSU and then I will go back and then I will go back yummy awesome very good let's try the other side let's try right the right side because it's different you will feel it proviamo a destra perché sentirete che sarà diverso coordinare i piedi lo spostamento dei piedi ma lo facciamo così lentamente in modo tale che è ancora un buon momento per studiare ci prendiamo un paio di video proprio per studiare questi spostamenti poi facciamo forte quindi KIDAN BARAI KAMAI TE OITSUKI MATE OITSUKI ci spostiamo sempre prima dal lato dove siamo aperti we will first do the movement from the opening quindi KIDAN BARAI we go forward OITSUKI MATE OITSUKI OITSUKI then the last movement two legs the move and OITSUKI and we can do this also for the defense for example with AGYOKE now I will now go forward with GIDAN BARAI GIDAN BARAI left side so I will go forward AGYOKE MATE AGYOKE the opening first AGYOKE MATE AGYOKE change direction AGYOKE ehi ancora una volta parte destra GIDAN BARAI questa volta lo provo con la difesa AGYOKE andando avanti MATE AGYOKE la parte aperta vado avanti per esempio AGYOKE MATE e AGYOKE l'ultima tecnica muovo due piedi per fare lo spostamento e vado avanti AGYOKE e ritorno bene adesso facciamo forte però facciamo forte e veloce gli spostamenti e le tecniche e tra i due lo stacchiamo per adesso così facciamo una cosa pulita quindi ora facciamo una cosa pulita ora facciamo una cosa pulita ma facciamo un esercizio ma facciamo un esercizio ma facciamo un esercizio e la facciamo un esercizio e la facciamo un esercizio ma facciamo un esercizio perché se vuoi fare troppo magari non è così quindi io vorrei provare questo esercizio quindi come on e e e e e veloce lo spostamento veloce la tecnica fast movement fast technique but clear right side che dam bra e adesso con le parate agyuki 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 and then we're going to cross in between to make a clear movement either is a kusudachi che dam braai sinistro che dam braai come on echi 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 questo movimento della legge, questo movimento in 4 differenti direttioni, come vedete, possiamo attaccare, possiamo difendere, possiamo andare avanti, possiamo anche andare avanti, questa volta abbiamo avuto avanti, ma possiamo anche andare avanti. Abbiamo anche diverse tecniche in nostro repertoire come Karateca, so we can really play with it, you can be creative with these exercises, these are just the basics, then you can play with it. So, as usual, give me a thumb up, thumb up if you like this video, subscribe to this channel and I will see you in this dojo in the next video. Bye!